Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano 7 km di coda per lavori tra Ginestra Fiorentina e Scandicci. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulle autostrade della Toscana. Per quanto riguarda i cantieri della tramvia, stanotte in orario 21.06, lavori notturni in Piazza della Libertà con chiusura dell'attraversamento da via Ponte Rosso. A seguire scatterà un restringimento sulla direttrice da Viale Matteotti verso Viale Lavagnini davanti al parterre. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!